allora ragazzi ed ho un po con un pullo sopra omnia e infatti ho quattro banner praticamente con la free pool perché sono ovviamente i banner due della campagna e due di selfie e sales che fanno parte della campagna di halloween quindi allora cominciamo da qui dove non mi interessa nulla in realtà perché senza il cielo che è probabilmente il personaggio migliore terra che non me ne frega nulla e realm che carina come meccaniche però sinceramente skipperei volentieri eccola qua orbazzurra ma con selfie penso di usare i tokens a sto punto tanto che inutile che uso le gemme uso i tokens e tanto devo prenderla per forza quindi ormai l'abbiamo promesso e che c'è il bello di trovarla con le gemme no che uno pull e la trova con le gemme e con i tokens è un cheat si da un lato è vero da un lato da un lato è vero quanti di che to a me mi piace ancora il free ticket va bene secondo banner con seltius jesse e aranea e io ovviamente non ne ho nessuno dei tre però sinceramente sti cazzi però oddio orb dorata meglio maiale che fascista ma su questo non c'è dubbio quello prendere la bt di katagi con i tokens ma prima ho pullato con i ticket che trova su fr niente di meno mi sono uscite due bt me coglioni tutte le ld mi è uscita che molti di merda no selfie dopo prima prima seles ma io sei se ce l'ho se non mi sbaglio io se le se ce l'ho dovrei controllare se ho seles ma se non mi ricordo male ce l'ho seles è che non l'ho è che non l'ho non l'ho maxato ce l'ho forse sbloccata ma l'ho maxata madonna gau è ancora vivo gau allora seles ce l'ho perché ho controllato allora free ticket vai bt da free ticket sarebbe il colmo non mi fosse uscita la bt da free ticket sarebbero state tutte risate immagino ma seles è buona mi piace un casino in realtà seles e laura blu del piccione dell'evento 9 con gli attacchi ghiaccio se non sbaglio si leva della six warrior quella di cutter giustamente hai pullato in jp per seles e vabbè mi sembra giusto mi sembra assolutamente giusto ma vanna orba azzurra tra l'altro vabbè qua seles secondo me ora me la fa pagare cara per tutti gli insulti che io ho fatto seles poi me la fa pagare cara qui seles me la fa pagare cara seles me la fa pagare carissima non può chiamarsi emily perché emil è un nome troppo importante non può portarlo lei lei non si merita di chiamarsi col nome di emil no non se lo merita basta attenzione se mi esce la fr prendo prendo la bt con i token non me ne frega nulla se mi esce la fr di seles la prendo coi token non ce li non ce le voglio spendere ste risorse per seles preferisco sprecare i toghen veramente preferisco sprecare i toghen oddio no effettivamente non aveva fatto nessun loading quindi ci sta al 941 mai buttiamo stile che volevi vuole guarda che faccia guarda che faccia non se l'aspettava vuole guarda che faccia guarda che faccia non se l'aspettava tra l'altro me l'avete fatto due volte ma avete fatto la combo ld di huacca così totalmente a caso ld di huacca completamente random proprio in contemporanea l'avete fatto proprio preciso ah una 15 di selfie e se è un tacchino anche no se sono ticket azzurri schippo se sono ticket buoni che tra l'altro l'altra volta mi ha portato fortuna a schippare i ticket perché la bt mi è uscita schippando i ticket quindi mi è andata bene con i ticket schippati noel ma vaffanculo noel va bene qualche altro ticket lo butto dai mi fermo a 850 dai le concedo 100 ticket sono un cavaliere ma no ma poi tutto è orba azzurra cioè uno non mi odia così tanto selfie guardala ma poi neanche una 35 c'è solo una 15 mi è uscita di selfie è un'altra 15 vabbè andiamo a 800 basta tanto di se ne prego ma tutto è orbo e blu non mi erano mai capitate delle pull così brutte in Giappone senza neanche un'orbo dorata cioè proprio siamo tornati tipo a 8 anni fa quando ancora non c'era neanche il gioco paurosa sta roba ma poi neanche la FR niente wakka mi sei completamente innamorato proprio selfie mi sta odiando e devo andare di gemma ce ne siamo usciti ce ne siamo usciti di cosa non ci sperare che vuol dire non ci sperare ho l'animazione BT in camera che cosa vuol dire non ci sperare non c'è la FR possibilmente ma la BT c'è sicuro ma no che no la BT è solo selfie nel banner non ce ne sono altre BT qui c'è solo selfie come BT quindi ora è la FR che ecco ora bisogna vedere se esce la FR no sapete cosa mi sembra quest'arma ma io no non lo posso dire perché siamo in fascia protetta siamo 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 in fascia protetta e niente FR devo cercare la FR poi ticket non ne spendo gemme per la FR col cazzo che gli do le gemme per la FR selfie non se ne merita le mie gemme per la FR ecco chi vuole capire capisca con quel colore dorato così acceso proprio molto bello ma no ma proprio proprio fiero c'è una cosa che merita selfie però non lo posso dire c'è una cosa c'è non ci credo ma che cazzo sai Filippo allora va bene sono tokens alla fine quindi non mi fa schifo però mi serve la FR mi serve la FR me la dai la FR per favore per favore la FR no allora quest'arma di selfie invece se la guardate bene fa un male però secondo me secondo me ecco ovviamente inventario pieno allora continuiamo si vai esatto io collezionavo l'ex per le sfere ma oggettivamente parlando chi è che si mette a fare le sfere ormai niente l'ex ti prego selfie dammi sta maledetta FR dove sta FR minchia sono a 700 ticket vabbè andiamo tanto fin quando sono ticket non mi interessa selfie è sensibile e prende solo i diamanti chapeau questa è stata bella questa ci stava questa è stata bella chapeau ah no giustamente oro madonna waka mi stai rompendo il cazzo mi stai rompendo il cazzo waka 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 niente a 600 mi fermo a 600 mi fermo e vado di gem porca waka porca waka ma poi tutto è orba azzurra sapete secondo me che cos'è secondo me o per omnia si è preso di gelosia perchè sto giocando Ever Crisis si è preso di gelosia perchè gioca Ever Crisis waka finchè non lo maxi continuerà a spammare ld si ma poi sicuro selfie ha il suo lui non tecnicamente dovrebbe essere il vine se volessimo ipotizzare in base al finale di Final Fantasy 8 però è un po' ah devo arrivare a 500 quindi ok me lo sta dicendo Angel che devo arrivare a 500 perchè lui appunto ha lo stesso cognome di selfie quindi è suo fratello quindi se lui mi dice che devo arrivare a 500 devo arrivare a 500 vuol dire che entro i 500 ticket e mi da la FR giusto? mi chiama poi tutte orbe azzurre culo su Ever Crisis? no assolutamente su Ever Crisis in Oper Omnia ho praticamente tutto non mi serve più avere culo su Oper Omnia cioè quello che non trovo col culo lo trovo con le gemme che poi detto così suona malissimo quello che non trovo col culo suona malissimo madonna quello che trovo col culo non si può sentire su Oper Omnia ormai dopo tutti gli anni in cui ho giocato ho tutto non mi serve più niente su Oper Omnia mentre invece su Ever Crisis mi serve tutto quindi decisamente culo su Ever Crisis niente completamente impazzito il gioco ma voi guardate Waka con quel sorriso cioè dovete vedere Waka con quel sorriso che mi fa tipo eh la volevi la FR vero? bastardo niente ora vediamo se mi da la FR con le gemme minchia no però l'Orba Azzurra con le gemme no no Orba Azzurra con le gemme non lo accetto che poi tra l'altro non è che dici hai trovato la FR usa i token per la BT la BT l'ho trovata ne ho due BT che cazzo devo fare con due BT? mi ricorderò sempre quel free ticket sul banner di Garnet Global Exclusive al Day 1 ma quello è stato incredibile ma quello è stato incredibile anche perché io sul Global non avevo risorse quindi per pullare Garnet dovevo solo sculare cioè non la potevo prendere in altro modo non la potevo ottenere in un altro modo mi serviva necessariamente pullare lì no va dai le Orba Azzurra con le gemme non si possono vedere però allora Orba Dorata è selfie che non va non è il metodo geppino è selfie selfie è repellente per me io l'ho detto che selfie è repellente cioè guardala cioè guardala combatte con due niente non lo posso dire non posso dire che cosa sono quelle cose che poi io l'ho sempre detto selfie comunque sia cioè una bottarella in amicizia anche se è stupida come una campana però quasi quasi così giusto per perché alla fine non è brutta non posso dire che sia brutta è solo che è stupida cioè è quello il problema niente io vado mi sa che vado a fare il pt per la fr vero? mi stai portando ptfr oppure esatto oppure il troll peggiore che mi esce al 300esimo gtoken niente 2,80 vabbè ormai niente siamo a Pili giusto? e vabbè ecco ora orbo dorata che si trasforma in in viola e poi guardate che cosa succede guarda guarda io già l'ho visto guarda 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 neanche la guardo neanche la guardo perché già lo so ah no ok ok va bene così mi accontento mi accontento di non essere trollato almeno alla fine sto è bellissimo sta cazzo di cosa ok una promessa è una promessa ragazzi selfie mi ha colpito mi ha colpito duramente ti 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 mi ha colpito